Buon pomeriggio ancora, bentornati, siamo noi in questo nostro spazio dedicato ai Santi che vengono celebrati nella settimana e ad accompagnarci. Torna padre Massimiliano Noviello, superiore del convento dei padri Cappuccini di Napoli. Padre Noviello, come di consueto vediamo i Santi che ci accompagnano in questa settimana, partendo naturalmente dal lunedì 11 dicembre San Damaso, 12 dicembre i Santi Epimaco e Alessandro, 13 dicembre il giorno di Santa Lucia, il 14 dicembre San Giovanni della Croce, il 15 dicembre venerdì Santa Maria Crocifissa di Rosa, sabato 16 dicembre Santa Margherita da Cortona e infine domenica 17 dicembre San Floriano. Bene, allora padre Massimiliano, io direi di partire con la figura di grande sostanza di San Giovanni della Croce, nato nel 1542, fu canonizzato nel 1700, nel 1726 da Benedetto XIII, conobbe ed ebbe un legame molto stretto con Santa Teresa d'Avila. Tra poco di questo incontro noi parleremo, però io vorrei che lei subito ci dicesse, padre Massimiliano, come avvenne la conversione di San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce viene da una famiglia umilissima, semplice, povera. Pensate che all'età di nove anni Giovanni si dedicò al lavoro presso le suore del monastero, lì vicino al suo paese. Lui nacque nella vecchia Castiglia, presso quest'essore, in cui Giovanni della Croce manifestò una capacità intellettiva notevole. Questo lo spinse addirittura a proseguire gli studi. Intanto fu accolto come infermiere presso l'ospedale della Concezione. E qui dall'ospedale della Concezione fu accolto nel collegio dei padri gesuiti. Ecco, dove esattamente? Nella vecchia Castiglia. Lo abbiamo collocato geograficamente. Nel 1567 fu ordinato sacerdote e qui avvenne quel primo incontro che fu veramente fondamentale per la vita di entrambi, vorrei dire, con Teresa d'Avila. Terminati gli studi presso l'Università di Salamanca e avendo fatto il primo anno di noviziato, lui, dopo l'ordinazione sacerdotale, come è ben detto, ebbe questo incontro decisivo. Che diciamo, tra virgolette, di conversione, ma di una conversione nel senso non di ritorno a una vita cristiana, no, ma di conversione nel senso profondo del termine, di comunione intima, spirituale, con quest'altra grande santa, Teresa d'Avila. La quale comunicò a Giovanni della Croce il suo desiderio di voler rinnovare, riformare il Carmelo, sia nella sua realtà maschile che nella sua realtà anche femminile. Ma questo provocò dei dispiacerimenti. Ecco, perché questo incontro non portò soltanto quell'arricchimento spirituale che tu hai ben definito una conversione, ma portò appunto anche a, come dire, gli incidenti di percorso. Ci fu un rapimento, addirittura da Giovanni della Croce fu rapito. Sì, addirittura un rapimento. Fu anzitutto rapito e poi incarcerato a Toledo, dove compose quella sua opera meravigliosa, il canto spirituale, il cantico spirituale, che raccoglie la sua interiorità anche a livello espressivo, quindi linguistico, in forma poetica. Canta il suo amore per la Chiesa, per Cristo, per il Pontefice, e quindi sulla linea proprio del Cantico dei Cantici, questo libro all'interno della Sacra Scrittura, in cui l'anima si innalza alle vette dello sposo, che è appunto Cristo Gesù. Ecco perché San Giovanni della Croce scrisse moltissimo, come tu ci stai spiegando, questa è di sicuro la sua composizione più importante, un po' la sua eredità spirituale. Vogliamo oggi arrivare a quel 13 dicembre, che è il giorno di Santa Lucia. Santa Lucia è una santa che ci riporta alla fine dell'anno 200, molto popolare, con una devozione diffusa in tutto il mondo, scherzando, un po' col sorriso sulle labbra, possiamo dire che in un certo senso è una collega di Babbo Natale. Nel senso che... Scherzando, torniamo a scherzo. Sto scherzando. E questo è collegato, ovviamente come leggenda, a una tradizione rurale del nord, dove coloro che avevano fatto un raccolto abbondante e buono, davano poi a coloro che non avevano fatto nessun raccolto buono. Ecco perché Lucia viene raffigurata come colei che insieme a Babbo Natale porta i doni ai bambini, e quindi a coloro che si sono comportati bene e hanno avuto... Questo accade nel nord Italia, in alcune zone, accade in Svezia, dove la processione di Santa Lucia è importantissima, nel nord Europa soprattutto. La storia della conversione di questa santa è una bella storia, una storia affascinante. Comincia con una richiesta di questa giovane ragazza per la sua mamma che si era malata, si affidò a un'altra santa. Eutica, la quale la mamma durante la vita di Lucia, intanto il papà morì giovane, quando Lucia aveva appena cinque anni, e quindi la mamma la educò cristianamente, gli insegnò i fondamenti del cristianesimo, e crebbe in Lucia il desiderio di consacrarsi attraverso il voto di verginità al Signore, ma proprio in questo momento che la mamma si ammale gravemente di un'emorragia. E Lucia suggerisce alla mamma di fare un pellegrinaggio sulla tomba di Sant'Agata, protettrice appunto di Catania. E arrivano proprio nel giorno della festa di Sant'Agata. Eutica, la mamma di Lucia, mette la mano sulla tomba, considerata taumaturgica, e nello stesso momento Lucia ha una visione. Agata, in visione a Lucia, dice Ma perché chiedi a me quello che tu stessa puoi ricevere attraverso le tue preghiere? Tua mamma è guarita per la tua fede. Io sono la protettrice di Catania, tu sarai la protettrice di Siracusa. Così è stato, la devozione a Santa Lucia si è diffusa rapidamente, subito dopo la sua morte. Tra poco racconteremo come è avvenuta questa morte, però vorrei intanto che ci anticipassi, Padre Massimiliano, il perché di questa devozione tanto radicata e tanto diffusa. Che cosa ci lega a questa Santa? E' molto venerata, sia nella Chiesa cattolica che nella Chiesa ortodossa, per cui lancia questo ponte di comunione, di unione e anche di dialogo, ecco come dice Papa Francesco. Un dialogo che non si deve mai interrompere. Intanto Santa Lucia è molto venerata, proprio perché anche e soprattutto dalla devozione popolare per la vista. Il termine Lucia viene dal lux, dal latino lux, che significa luce. Per cui Lucia è nata con la luce. Magnifico. E noi, proprio per darvi una testimonianza di questa devozione tanto diffusa, siamo andati a Padova. Padova opera l'Associazione Santa Lucia per la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli, che promuove tanti diversi progetti di solidarietà. E la nostra Antonella Ferrara è andata lì a Padova per raccontarceli. Santa Lucia era attesa dai bambini, come colei che portava i doni. Allora, fare l'ascendio di Santa Lucia è poter dire apriamo il nostro cuore e regaliamo a chi ha bisogno qualcosa che possa dare anche a loro una possibilità di vita diversa. L'Associazione Santa Lucia è una fondazione nata nel 2010 per dare, potremmo dire, continuità e sviluppo a questa grande cena dove gli ospiti si trovano una preparazione molto, potremmo dire, elegante. All'interno di questa cena poi ci sono tutta una serie di incontri, di testimonianze, di presentazione dei vari progetti. Lo scorso anno abbiamo appunto deciso di devolvere una parte del ricavato a sostenere le cucine popolari. Le cucine popolari è un'opera della diocese di Padova ed è un luogo di accoglienza di urna di persone che sono in una situazione di disagio a livello economico, quindi persone che concretamente non saprebbero dove andare a mangiare. Le cucine vanno avanti perché ci sono delle persone che lavorano, quindi ci sono otto operatori e cinque cuoche, e anche perché ci sono molti volontari. Ho raggiunto il tempo della pensione, ho più tempo da dedicare anche a queste attività di volontariato, anche perché nella vita io ho ricevuto tanto e penso che sia giusto anche dare qualcosa agli altri. Le cucine popolari io posso dire che sono una grande testimonianza e un grande punto di aiuto per tantissime persone. Io sento un collegamento con Santa Lucia, che è la protettrice di chi ha problemi agli occhi, perché per me qui ci sono le persone che sono invisibili, quindi Santa Lucia ci aiuta proprio a dire ma imparate a guardare e a vedere, vedere quelle realtà che non vogliamo vedere. Li abbiamo scelti perché noi cerchiamo sempre di aiutare e quelle opere che possono essere e contenere un richiamo educativo, un richiamo ideale di attenzione ai poveri. La gira di Santa Lucia viene declinato proprio come questa educazione e attenzione alle persone che sono più in difficoltà. Quest'anno parteciperà per la realizzazione della cena di Santa Lucia è un nutrito gruppo di studenti della scuola DF, una scuola professionale appunto. È uno strumento attraverso cui in maniera concreta viene proprio questa educazione all'attenzione all'altro. Santa Lucia che stiamo vedendo anche in tante diverse immagini perché veramente è stata rappresentata in molti diversi modi. Martire cristiana, infatti la storia della sua morte, delle torture che fu sottoposta, lo dimostrano. Ma perché e da chi fu perseguitata? Lucia fu perseguitata sotto l'imperatore Diocriziano che aveva emanato leggi durissime contro coloro che non offrivano sacrifici agli dèi pagani. E intanto proprio perché Lucia aveva fatto voto di verginità al Signore che disse, manifestò alla mamma, proprio dopo l'avvenuto miracolo dell'emorragia alla mamma, Lucia manifestò questo desiderio alla mamma. Un pretendente di Lucia, arrabbiato potremmo dire di questo fatto, l'accusò presso il prefetto Pascasio affinché potesse mettere in vigore le leggi di Diocriziano. Cosa che avvenne, cosa che avvenne alla perfezione perché Lucia anzitutto fu catturata ma non riuscivano a... Ecco perché questi verificarono per arrivare alla morte di Lucia tantissimi prodigi. Prodigi miracolosi. Gli scritti dell'epoca ci dicono che Lucia diventò miracolosamente come un sasso per cui non riuscivano a spostarla. Addirittura proposero allora di bruciarla viva sul rogo. Le fiamme si scostavano dal suo corpo. Addirittura si pensò allora alla decapitazione. È proprio in questo momento che Lucia preannunciò la morte di Diocriziano e la fine della persecuzione di Cristiani con l'editto di Costantino nel 313. Padre Massimiliano, tanti sono i nomi illustri, non si può neppure elencarli tutti tra i suoi devoti. C'erano sicuramente San Tommaso d'Aquina e c'era Dante che la definiva simbolo di grazia. Di lei farla pure nel convivio. Nel convivio perché Dante aveva problemi agli occhi per cui l'ha pregata spessissimo. Lui stesso nel convivio manifesta questa sua intenzione di invocazione a Lucia perché potesse ottenere la guarigione degli occhi. Ecco, Padre Massimiliano, a proposito degli occhi, perché insomma, cogliamo l'occasione della tua presenza qui, perché qui c'è un po' di confusione, no? Noi siamo abituati a vedere quella rappresentazione, forse abbiamo un'immagine, l'abbiamo vista anche prima, della Santa con un vassoio con gli occhi. Questo ci ha fatto pensare, fa pensare magari che appunto la sua morte sia avvenuta in un modo che insomma coinvolge questi organi. Gli occhi in realtà, tu ci hai detto, è stata decapitata. Perché allora questa rappresentazione? Le leggende ci tramandano l'episodio di Lucia che proprio durante la persecuzione una delle sofferenze a cui venne inflitta Lucia era quella di portarla in mezzo alle prostitute. Allora Lucia, secondo la leggenda, si cavò gli occhi o lei oppure furono cavati dai persecutori per non porre il proprio corpo a disposizione della cattiveria. Oggi c'è una chiesa a lei dedicata, insomma, che accoglie i pellegrini e tutto il mondo, a Venezia. A Venezia. A Venezia. Fiumi di pellegrini, perché il suo corpo una volta morto è stato portato da Siracusa a Costantinopoli e poi a Venezia dove lì riposano i resti mortali. Ma intanto la festa che viene celebrata vede fiumane di persone a invocare la protezione di Lucia per gli occhi. Ma principalmente è conosciuta per questo. Perché Lucia, la cui origine è luce, possa ottenere la luce della grazia dell'anima e per allontanarci dal peccato, che è la più grande disgrazia. Allora, per concludere adesso, non perché la consideriamo meno importante degli altri due santi che l'hanno preceduta, io vorrei con lei, passo dal tuo a lei, insomma questo percorso lo stiamo facendo da diversi mesi insieme. Vogliamo parlare di Santa Maria Crocifissa di Rosa, che fu beatificata durante la Seconda Guerra Mondiale da Pio XII, era il 1940, è canonizzata poi il 12 giugno del 1954. E attenzione, noi la ricordiamo soprattutto perché fu la fondatrice delle ancelle della carità. Padre Massimiliano, anche con lei abbiamo fatto spesso questo racconto di santi che vengono ad un'esperienza di vita agiata, appartengono a famiglie nobiliari, che all'improvviso cambiano completamente vita. Santa Maria è una di queste, di famiglia agiata, nobile, sesta di nove figli, tutti e nove morirono. Quindi già un'esistenza dolorosa, nonché agiatamente vissuta, però con questo dolore grande. Fu educata cristianamente dalla mamma, alla quale anche ella morì, e dopodiché il papà la pose nel collegio delle sue revisitandine, dove rimase e si distinse per esemplarità di vita. Rimase fino al 17esimo anno di età. Ricordiamo anche l'epoca in cui visse, perché abbiamo detto canonizzata. Sì, nel 1800. Siamo nell'800. Quindi una santa che ha vissuto... Siamo agli inizi della piena epoca industriale. Una santa che ha vissuto intensamente la sua epoca. E anche il suo carisma si adatta benissimo alla sua epoca. Ecco, perché lei fece una scelta che aveva a che fare appunto con le nascenti industrie, con lo sfruttamento soprattutto della manodopera femminile. Addirittura questa santa si adoperò tantissimo durante, perché è nata a Brescia, durante i dieci giorni di rivoluzione politica a Brescia, stiamo nel 48, quindi nel 49, e si adoperò per la cura degli ammalati, addirittura anche per situazioni di infermiere che non erano all'altezza della situazione, per cui formò le ragazze per venire incontro alle sofferenze, istituendo la Pia Società delle Infermiere, curando addirittura e istruendo le infermiere e passava lei stesso a curare queste infermiere, non soltanto materialmente, ma anche spiritualmente. Cioè, pensate che contava l'ospedale civile di 72 infermiere. E non la spaventò neppure il colera? Neanche il colera. Durante quel periodo lei stessa si adoperò con queste infermiere a venire incontro ai bisogni di prima necessità, e materiale e spirituale. Ecco, da qui, da questa attenzione verso gli ultimi, verso i malati più fragili, la grande intuizione di dar vita alle ancelle della carità. Sì, alle ancelle della carità. E riuscì, grazie anche a un aiuto che le diede il padre, che incoraggiò questa sua... Sì, perché nel momento in cui la Maria decise di consacrarsi al Signore, trovò un terreno fertile, sia dalla famiglia in cui lei veniva, in quanto aveva ricevuto un'educazione cristiana, e il papà, accogliendo il suo desiderio di votarsi al Signore, la pose subito in una casa dove si lavorava la seta. E lei che curava, appunto, queste operaie. Erano 72. Intanto si adoperò anche a fondare una scuola per le sordomute, così come anche a formare le stesse infermiere che erano in queste case. Il papà le donò anche proprio materialmente al denaro per acquistare poi un palazzo. Sì, un palazzo dove si fondò poi la stessa congregazione, che fu approvata dal vescovo di Brescia, Monsignor Domenico Ferreri, e poi approvata addirittura dal pontefice Pio IX. L'approvazione non fu proprio semplicissima? No. Perché ci furono, ricordo che ci troviamo in un periodo di guerre, per cui si dovette aspettare un lungo periodo, anche per avere... E la stessa santa si regò dal papa Pio IX, per chiedere al pontefice di snellire le pratiche formali per arrivare all'approvazione definitiva. Cosa che ottenne, e per cui furono elevate a dignità di congregazione, nonché, prima di morire, ecco, vide completata la sua opera, che contava addirittura di 43 case già fondate. 43 case. Fu importante anche il momento in cui le sue compagne ricevettero proprio l'abito. Sì, l'abito per la professione religiosa. Diciamo che questa santa ha vissuto tutte le tappe e le ha viste, ha visto l'opera di Dio svolgersi nella sua vita. E questo per un semplice sì, faticoso, duro, sofferto, perché questo le provocarono molte sofferenze, perché ogni sì viene pagato appunto con gioie, ma anche con sofferenze inaudite. Padre Massimiliano, l'ancelle della carità oggi, quale eredità spirituale di lei raccolgono? Racchiudo il carisma con un'espressione di Santa Chiara, perché i santi si capiscono a vicenda e si danno luce reciprocamente. Quello che fa è fallo bene. Questa santa ha capito che durante i giorni di Brescia, i difficili dieci giorni di Brescia del 48-49, le infermiere non erano all'altezza di venire incontro agli ammalati, non erano preparate. E questo è molto importante. Il carisma è proprio qui formare coloro che vivono accanto ai malati, ma formare non tanto soltanto la professionalità, ma partire dallo spirito di fede. Come direbbe Padre Pio, non date ai primari, quando si aprì la casa sull'iovi della sofferenza, disse ai primari, Padre San Pio, non date solo la professionalità, ma date l'umanità. Ecco, tema attualissimo, quello che tu hai introdotto, Padre Massimiliano, è molto caro a Noi Siamo Noi, che è quello della necessaria umanizzazione delle cure. Io ringrazio davvero Padre Massimiliano Moviello, che torna naturalmente per parlarci della vita dei Santi. Salutiamo, mamma Carmela ancora convalescente. Ci fermiamo un momento per seguire con voi la coroncina, la divina misericordia, poi torniamo per parlare di un tema che insomma ci coinvolge tutti. Fino a che età possiamo guidare senza essere un pericolo per noi stessi e per gli altri. Bene, lo vedremo subito dopo la coroncina.